Ciao ragazzi! Oggi faremo la Nenuco Daily Routine Challenge! Sei pronta, Mattia, a farvi una giornata strepitosa, Nenuco? Sì! Sono già le 8 di mattina passate. Cosa deve fare, Nenuco? Andare a scuola! Uh, deve andare all'asilo! Ma ce l'ha il grembiolino? No! Dobbiamo andare a comprarlo? Tu lo sai che qua c'è il negozio di Nenuco, il Nenuco Shop? Chiaramente! Prendi Nenuco, vieni che ti accompagno! Forza, portiamolo! Andiamo, 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 andiamo! C'è veramente il Nenuco Shop, Matti! Mettiamo un grembiolino per Nenuco! Hai soldini? No! Ma ce li ho io! Che cos'hai Ale? I Nenucconi! I Nenucconi! Vediamo cosa abbiamo! Ho questo! Quello? Ah, è interessante! Ah, ho questo, questo! Beh, direi che il grembiolino va proprio bene! Vediamo! Ti può piacere, Matti! Guarda quello che il grembiolino di Nenuco! È proprio perfetto! C'è anche la merenda? Sì, i biscottini! L'abbiamo dato un soldino a questo bravo commesso? Ecco! Tantemi un Nenucone! Ecco un Nenucone! Si aprono qua! Guardate il commesso com'è! Super professionale ci aiuta! Matti nel frattempo prepara il nostro Nenuco, lava e pettina! Ma c'è lo scotch! Che cosa serve, Matti? Fabrici! Eccole qua! Allora arrivano! C'è anche il sacchettino da portare all'asilo! Sì, come Matilde! Cosa ci metti tu, Mattilde, nel sacchettino? È il babaglino! È anche... L'asciugamano! L'asciugamano! Giusto! Mi cado un po' al mio asilo! Nenuco, stai già mangiando la merenda prima di andare all'asilo! Buoni! Anche il commesso, Sadio! Come stai già le biscottini, Nenuco? Mmm, gocce di cioccolato! Mmm, che buono! È il momento di indossare il grembiolino! Che poi è a quadretti come il tuo, Matti! Guardate, si chiude anche con questo qua! Anche le taschine! Oh, che bello! Questo negozio è proprio super fornito! Allora, si indossa comodamente con l'apertura su una schiena! Wow! Ecco che Nenuco è pronta! Infiliamo le braccia! È bravo questo commesso, Matti? Sei bravo a fare tutti i vestiti! Abbiamo speso bene il nostro Nenucone! Sì, perché oggi c'erano gli sconti! Oh, che bene! Siamo stati fortunati! Wow! Oh, ecco la nostra Nenuco! Ma aspettate, mettiamo anche questi! Rimettiamo i leggings! Infiliamo anche i leggings, giusto? I biscottini li mettiamo dentro il sacchettino! Ma ci stanno veramente? Perfetto! E Nenuco adesso è pronta per andare a scuola? No, ci serve anche l'acconciatura perché sennò si mangia anche i capelli! Hai ragione! Con i capelli così lunghi la nostra Nenuco non può andare all'asilo! Io sono brava a fare il codino! Vai Matti, nazione la petineuse! Un codino di là! Dobbiamo fare veloci perché Nenuco, come Matilde, deve andare all'asilo entro le nove! Adesso dovrei essere a scuola io! Hai ragione, Nenuco, tu sei il primo che va a scuola! Otto Nicolò, entro le nove Matilde! Voilà! Nenuco è pronta per andare a scuola! Prepariamo la scuola! Banchetto! Foglietto! Sedie! E pennarelli! Chissà che ci insegnerà il maestro? Buongiorno signorine! Oggi vi insegno di disegnare un gufo! Per prima cosa si disegna un cerchio! Un bel cerchio! Ecco che anche Matti sta facendo! Ah, anche Nenuco è già pronta! Brava Nenuco! Dopo? Un occhio! Un occhio! Un occhio di qua! Un occhio di là! L'altro occhio! Guarda come sta attento a Nenuco! L'altro occhio! Il becco! Ah, questo è il becco! Eccolo! Eccolo! Un forrisetto praticamente! Giusto! Un gufetto felice! Cresta e lette! Forza Nenuco! Poi? Ci siamo! Si fa così! Sì! Così! Ha gli occhiali questo gufo! Ah, gli occhiali! E poi? Un gufo saggio e sapiente! Così! Sicuramente il dottor di Giulio Coniglio vero! Ah, ispirato al gufo di Giulio Coniglio! Brava Nenuco! Ho già finito! Tu Matti come sei? Brava Matti! Bravissima! Bravissima! Brava! Hai finito anche tu! E adesso disegniamo il corpo! Non mi sta! Nenuco! Non mi sta! Hai iniziato troppo in basso! Ecco qua! Io faccio quello che si sede! Brava! Che cuffetto seduto! Ecco finito! Wow! Grazie maestro! Vediamo i risultati della classe! Molto brava Matti! Complimenti Nenuco! Gli occhi gli occhi! Ci hai dimenticato gli occhi? Sì! Ah ecco! Due puntini qua! Due puntini qua! E due là! Cosa fai maestro? La foccina contenta! Ah brava! Prendiamo il voto! Brava Matti! Brava anche Nenuco! È l'uno a un quarto! Vediamo cosa succede adesso! Deve pensare! È ora di pappa! Ce l'ha il babaglino Nenuco? Non ce l'ha! Per fortuna possiamo andare in negozio! Yahoo! Benvenuti all'Enuco Shop! Buongiorno! Cosa ti serve Matti? A me serve un babaglino per Nenuco per pranzare! Questo? No! No! Non è un babaglino! Allora! Ho questo! Ho questo! Che scelta che ci dà sempre questo negoziante! Questo ci piace! Cosa dici Matti? Bello! Però con la pappalina qua! C'è anche il piattino! Il cucchiaino! Il babaglino! Ci vuole un Nenucone! Ci vuole un Nenucone! Ce l'abbiamo? Sì! Vai! Arrivederci! Ciao! Ciao! Forza Ale! Che Nenuco! Guarda! È già svestita praticamente! Sì! È pronta! C'è anche la banana! Che carini fruttini! Il nostro abile commesso negoziante ci aiuta! E poi si completa con un bel babaglino a manichetta! Ecco qua Nenuco pronta per la pappa! Aspettate! E adesso? Dobbiamo preparare la tavola! Giusto! Qua abbiamo la cucina e ci mettiamo il tavolo! Il cibo l'ha già preparato! Bene! Eccola la tovaia! Voilà! Che bella! Con i fiorellini! A chi piace la pasta con le polpette? Amati! E quelle patatine? Credo che è quella! Buon appetito ragazze! Matti cosa ti... Ti sei preparata la torta? Sì! Mamma che bontà! Che bel franzetto! Torta patatine! Pasta patatine! Buona! Ho dato anche un po' a lei! Hai fatto bene! Mmm buonissime le patatine! Forza! Mangiate l'ultimo boccone! Che è tardi Matti! Dobbiamo andare! Sparichiamo la tavola! Via via! Mamma cosa succede Jess? Sono le 4.20 e Nenuco ha un compleanno! Ma Nenuco hai un vestitino per andare al compleanno? Oh no! Andiamo al negozio! Al negozio! Guardate qui che è ritornato per la terza volta! Abbiamo bisogno di un vestitino per il compleanno! Vediamo cosa abbiamo! Chissà cosa ci porterà! C'è qualcuno che sbircia curioso! Qualcuno che cerca tra i vestitini! Oh c'è questo! Oh se no c'è questo! Ah questo o questo! Ma è perfetto! C'è anche il coppellino per festeggiare! Guarda Matti! Happy birthday to me! Buon compleanno a me! È il suo compleanno allora! Auguri Nenuco! Senti dobbiamo dare però un soldino a un negoziante! Ah ecco il Nenucone! Nenucone! Possiamo andare a festeggiare! Ecco che infiliamo il cappellino! Vai Nenuco! Sei pronta per la festa! E manca solo il vestitino! Infiliamo il vestitino! Vediamo! Ottimo che meraviglia! Spettacolo! Ti porto la torta adesso? Eh sì! È un'ottima idea! Oggi compievo la per Nenuco! Vai! Ecco la torta di compleanno! Quanti anni fa Nenuco? Ancora cinque! Cinque anni! Facciamo uno, due, cannelline, tre, quattro, cinque! E cinque! Non se ne aspetta adesso le portiamo la torta! Io ho fatto il biglietto! Aguri! A te! Tanti aguri a te! Tanti aguri a Nenuco! Tanti aguri a te! Brava! Impiattiamo! Benissimo! Io metto la forchetta! Eccoci! Una Nenuco! Per la festeggiata! Slurp! De Nenuco! C'è ancora? Dopo il video se volete ancora un po'! Uh bene! Ci avanza Ale! Dopo il video possiamo mangiarci tutta la torta ragazzi! Bene! Posso leccare? Sì! Mmh! Molto buona! E questa per Mati! Diamo un pezzettino anche al negoziante! Sì! Sì che è stato tanto bravo! Ecco lei signor negoziante! Oh grazie! Anche un po' la festeggiata! Eh sì eh! Che ne pensi Nenuco? Buona buona! Dopo il compleanno che cosa succederà? Sono le 6 e mezza vediamo! Il bagnetto! Giusto perché si è spruccata abbastanza! Ah con la fetta di torta? Ma ce l'hai l'asciugamareno? No! Andiamo al negozio! Via! All'attacco! Andiamo all'attacco! Buonasera ma quanti Nenucone spendete? E tanti! Tanti direi! Ho bisogno di un asciugamano per lei! Abbiamo questi due tipi! E meglio direi il pandino! Il pandino! Ottima scelta! È proprio bello! Abbiamo un Nenucone per lei? Grazie! Ma guarda che carino il pandino! Andiamo! Oh non vedo l'ora! Nenuco si sta già svestendo! Io preparo la fetta! Ragazzi guardate un po' qua! C'è anche la spugnetta! È tenerissimo! Tanti! Vai! Il lavaggio di Nenuco! Ecco il sapone lava e pettina! Bravo! Bravo Niki! Oh guarda qua! È già lavato con il cotiniale! Così è già pronta dopo! Per la prossima fase della giornata! Sciacquiamola! È il momento del risciacquo! Prima la spugna di lei! Togliamo l'acqua! Ottima idea! Cosa sta facendo Nenuco? È la pipì! Sai il bagnetto un po' Fa venire voglia! È arrivato il pandino! Metti il cappuccetto sulla testa! Ecco qua! Il nostro commesso ci fa anche il fiocchetto Matti! Tieni! Eccola qua Nenuco! Ma quanto dolce è pandina! Bella! Andiamo! Andiamo Nenuco! Matti ormai è tardi! Vediamo cosa neanche Nenuco da fare! L'ora della nanna! Ce l'abbiamo il pigiamino? No! Andiamo al negozio! Speriamo non sia chiuso! Corri! Non chiuda! Non chiuda! No! Cosa non chiude? Forza! Forza! Ma anzi avete ancora Nenucone? Quelli ce li abbiamo! Ma lei! Cosa ci serve Matti? Un pigiamino! Ah un pigiamino! Un pigiamino! Vediamo se c'è ancora qualcosa! Sì! Che c'è? Quello che ci avevamo mostrato prima! È perfetto! Tieni Matti! Il Nenucone! Grazie! Arrivederci! Buona sera e buona notte! Grazie! Andiamo a nanna! Preparo le coperte! E qua stiamo preparando la tutina per la nanna! C'è anche la copertina! Io ho messo il Nenucone che ho ricevuto oggi! Qua dentro! Nel tuo portafoglio si è attrezzato al negoziante! Infiliamo il pigiamino! È tutto a Pua! Eccola pronta! Batti cinque Nenucone! Andiamo a nanna! A me sembra strano che abbia compito cinque anni! Sì! Sembra più piccolina! Anzi! Ma c'è anche lei a un anno! Non è di due! Direi che ci potrebbe stare! Andiamo nel lettino! Forza! Copertina! Un bacino! Hai fatto addormentare anche Nicolò! Ma ti hai visto? E anche Peruche! Notte Nenucone! Ma la nostra Daily Routine Challenge non è finita! Misterioso! C'è qualcosa di misterioso! Sì perché siete stati molto bravi e punto di domanda! Vi siete meritati tanti! Bacini! Guardate chi c'è! C'è Nenucone che dà bacini! Ci sono bacini per tutti! Basta mettere la manina lì e lui dà bacini a tutti! Ma è bellissimo! È dolcissimo! Matti cosa ti ha dato? Un bacino! Un super bacino! Matti che sei già all'opera! Qual è stato il tuo vestitino preferito? Festa! Eccolo qua! Festa di compleanno! Eccolo! Pandino! Il pandino è il tuo? Eccolo! C'è anche il pandino! E voi ragazzi fateci sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro vestitino preferito della Daily Routine Challenge di Nenucone! E se questo video vi è piaciuto mettete un bollicione! Iscrivetevi ragazzi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video e i prossimi bacini qui su GBR! E scaricate l'applicazione GBR per scegliere che vestitino mettere a Nenucone! Quello della festa! Ciao!